Noi ci siamo svegliati Dillo insieme a me, forza, forza, Barcellona, Madrid, forza Siamo venuti alle 11 per cambiare i soldi, sono le 11.26, ancora vicino alla macchinetta Sfortuna c'è poca gente a questa metro e quindi di conseguenza stanno, come dire, a non far far fila Ogni tanto arriva qualcuno e si pesa, si sposta Al prezzo. Ma un pietro. Questa è la freddo. Che stai senti? Il ciclivello? No, ma la vette trovi, la chiesa. Grazie a tutti. 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 Ci sono 6.000 persone, servono 16 metropolitane. Grazie a tutti. 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 a tutti.